I dieci anni di Lepida si aprono con una sfida straordinaria, mettere a disposizione la propria qualità, il proprio know how, il proprio personale così preparato e competente per arrivare a quella sfida che è stata lanciata dalla Regione poco tempo fa di un dimezzamento delle società in house, non per risparmiare o fare cassa, come qualcuno dice, ma esattamente il contrario, CUP 2000 e Lepida che si incontrano e si fondono non è per risparmiare, ma è per fare un polo di livello nazionale che faccia incontrare il tema della sanità, del socio assistenziale in una Regione in cui la sanità, la sanità pubblica è qualcosa di eccellente, con le tecnologie, il digitale, tutto ciò che ha a che fare con i sistemi di moderna anche informazione e diffusione digitale che ci permettono di vincere sfide non poco rilevanti. La prima, essere nel 2021 la prima Regione che ha completamente digitalizzato tutto il suo territorio e tutti i suoi 331 comuni per le imprese, le scuole, le famiglie, il turismo e dall'altra la Costituzione come stiamo provando a realizzare di un polo mondiale di studio e di centro di studio dei Big Data. Auguri di buon lavoro!